Ad Ortona non c'è più nulla da fare per ricucire una maggioranza. Oggi l'ultimo atto con le dimissioni di nove consiglieri comunali che preannunciano l'arrivo di un commissario a guidare la città. Questa mattina i consiglieri comunali di Ortona, Lario Coccio, L'Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simona Rabottini, Simonetta Schiazza, Italia Cocco, Antonio Sorgietti e Simonetta Faraone hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica appunto di consigliere comunale. Martedì scorso era arrivata anche la diffida del prefetto di Chieti per approvare il bilancio di previsione entro 20 giorni ma i tempi con le dimissioni dei consiglieri si sono accorciati. Angelo Di Nardo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, questa mattina avete protocollato le vostre dimissioni di ben nove consiglieri comunali, ieri siete stati dal notaio e quindi si accelera un iter che già stava proseguendo. Sì, di fatto la situazione al comune di Ortona era già insostenibile, il prefetto aveva fatto pervenire la diffida per la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge e di fatto oggi l'ente era in gestione provvisoria, una situazione di crisi politico-amministrativa che si protraeva ormai da circa due anni, quindi terza giunta zerata in meno di un anno e non era più possibile andare avanti così. La parola ai cittadini va ridata con immediatezza anche se questo significa passare attraverso un periodo commissariale. L'ultimo appello fatto dal sindaco Castiglione per cercare di ricostruire, di costituire una maggioranza è andato a vuoto. La situazione in cui ci siamo trovati è unicamente responsabilità del sindaco e di una maggioranza che aveva ottenuto la fiducia dei cittadini due anni fa e che non è stata capace di portare avanti il mandato. Era cosa saggia rassegnare le dimissioni preso atto di non avere più numeri in consiglio e invece ci ha costretti ad un periodo ingessato che oggi solo una figura commissariale indicata dal prefetto poteva sbloccare. Ora ci sono anche momenti importanti per gli ortonesi come le feste del perdono. Certamente queste dimissioni vanno anche nella direzione che consentirà al commissario a cui ovviamente faremo pervenire il nostro supporto, chiederemo anche un incontro come consigliere di opposizione ma anche come partito per verificare quali sono le urgenze della città e tra le altre cose ovviamente anche quella di organizzare le festività patronali che sono imminenti.